ciao ragazzi benvenuti ancora una volta un nuovo video di italiano in argentina in questo video vi dico quali sono i piatti che dovete assolutamente provare se venite in argentina cominciamo il primo piatto è la sado ovvero la grigliata ce l'abbiamo anche noi però qui lo fanno in una maniera un po' particolare hanno anche una hanno delle salsine buonissime che sono il cimiciurri e la salsa criocha che sono salse fatte tipo con verdure peperoncino olio sale spezie sono veramente buonissime magari un altro video vi spiego un po meglio di cosa si tratta il dusse de lecce c'è anche il dusse de lecce c'è anche chi chiama dusse dolce de lecce non so praticamente una specie di latte bruciato voi lo sapete la storia del dusse de lecce ve la posso raccontare in un altro video magari però è praticamente una crema formata dalla bruciatura del latte che diventa una veramente una cosa dolcissima è anche un po' pesante bisogna andarsi un po' piano però è buona adesso qui ce lo mettono dappertutto fanno le brioche le torte fino lo puoi trovare anche nei piccoli nei flan dei budini quelli gialli no di vaniglia lo fanno con il anche con il dusse de lecce poi la bistecca ok ciurrasco o bife fatto al metodo argentino è tutta un'altra cosa anche perché qui la carne se non sapete si taglia un po più grossa abbastanza più grossa rispetto a quello che facciamo noi in italia quindi vale la pena provare vi giuro che una volta che avete provato la carne argentina è difficile tornare indietro a rimangiare con la stessa mani alla stessa maniera quella che si fa in italia con tutto rispetto per la carne in italia però se devo scegliere tra la carne argentina la carne italiana io scelgo l'argentina poi sette anni e mezzo che la mangio quindi un'idea me la sono fatta no credite vediamo la prossima nella mia listina e la scappa papà 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 andiamo avanti c'è la scaloppa anche la cosa si fa la scaloppa scaloppa e scalopè rosolate con farina di frumento mai provata non so di che si tratta poi si chiama cucero cucero scusa papà youtube cucero un bollito misto preparato con diversi tipi di carne patate cioclo che è mais che qui si chiama cioclo o mais secondo la regione secondo la provincia diciamo e che altro albondigas sono le polpette di manzo uguali ok il video lo chiamerò piatti che si mangiano sia in italia che in argentina impanadas questo sì questo non si trova in italia bisogna farselo almeno tentare ok sono delle piccole dei panzerotti avete presente i panzerotti che si mangiano in sicilia e niente non mi metto a mitare dialetti perché sennò mi fate fuori cazzo e poi un'altra cosa a queste impanadas praticamente sono fatte con carne verdura beh può essere carne di pollo carne di manzo o poi ci mettono verdurine spesso sono molto spesso abbastanza speziate poi se se mangiate l'empanada di umita perché in realtà in realtà è umita quello di cioclo perché poi me lo direte no soprattutto le gentili dite no l'empanada di umita non si mangia a capitale federale a buenos aires e è verda è la verità perché umita si mangia nel resto del paese qui si trova l'empanata di l'empanada di cioclo di mais magari ve lo spiego meglio più avanti con me sta storia dell'empanada di umita l'empanada di cioclo però in realtà qui c'è la qui c'è il tipico cibo della della city della metropoli che è un po fanno tutto un po mix di tutto quanto mentre all'interno del paese ci sono le cose un po più tradizionali la cipà è un pane fatto con farina di manioca e formaggi è molto buono e molto piccolo quindi attenzione a non mangiarne troppi però si può essere come un accompagnamento con il mate o tipo per fare la colazione o la merenda altre cose o semplicemente per mangiarlo e basta poi il torrone qui il cosiddetto turron qui è diverso non ha praticamente niente a che vedere con quello che si trova da noi perché comunque il torrone il turron diciamo qui è considerato un po uno snack uno snack veloce ok per la mattina o il pomeriggio non si sa cosa cosa mangiare e allora praticamente si prende questo turron però è diverso non è il torrone che si trova in italia perché in italia come sapete si prende a natale normalmente in periodo dicembre freddo qua mangiano tutta la roba che va mangiata con il freddo la mangiano anche durante il periodo caldo caldissimo direi il panettone o pandus e qui addirittura fanno il pandus elado il pan il panettone con il gelato quindi se il panettone fa ok praticamente ci infilano il gelato dentro ma anche con i panettoni buoni lo fanno con aprono il panettone ci fanno il buco dentro ci infilano il gelato lo chiudono chiudono il coperchio del panettone ci possono mettere anche altre cose creme d'usso di lecce o anche ad esempio e cioccolato fuso anche io l'ho fatto un paio di volte è buonissimo poi un'altra cosa ciurros sono come un po i ciurros spagnoli però più corti qui ci sono dei negozi veramente top che li fanno veramente buonissimi ma io parlo sempre ricordatevi di quello che so io e per quanto riguarda più che altro a buenos aires quindi se sapete qualcos'altro me lo dite perché io ho l'esperienza qui di buenos aires ok finché resto qua poi non si sa chissà nella vita raga che che si che si deve fa l'ocro allora pietanza a base di mais e fagioli e o mais o fagioli e carne con varie preparazioni alcune ricette risalgono al periodo coloniale spagnolo gli invasori oltretutto ingredienti tipici mais bianco petto di manzo cipolla pomodoro salsiccia di manzo zucca e patate viene servito con una salsa piccante di peperoncino rosso e paprika se lo mangiate dove si deve è buonissimo io l'ho mangiato nella provincia di catamarca ed è una cosa veramente buonissima questo è un piatto che veramente vi consiglio assolutamente bene il video si conclude qui mi raccomando iscrivetevi al canale se vi è piaciuto mettete un mi piace condividete anche il video se ne avete voglia io sono su tiktok su instagram e ho anche la pagina facebook vi lascio tutti i link qui in basso nella descrizione quindi se avete voglia di vedere i miei video non fate altro che seguirmi e ci vediamo alla prossima dall'argentina ciao ciao